Il turismo si ascolta, i travel podcast conquistano i viaggiatori e raccontano storie e curiosità sui luoghi del nostro paese. Ci racconta la nuova frontiera del viaggiare Flavia Fagotto, Destination Manager. Il travel podcast è un contenuto audio che si ascolta online, che ha una durata specifica. Nel caso del travel podcast dei viaggi quindi deve avere una durata breve perché deve essere così più attrattivo e interessante, creare un engagement. Aiuta ad avvicinare di più il turista alla destinazione perché la concentrazione è più alta, perché durante l'ascolto si possono fare anche altre cose, per esempio semplicemente camminando alla scoperta della destinazione. Un modo diverso di esplorare una audioguida da portare sempre con sé. Tramite un dispositivo che tu puoi avere in mano, tranquillamente averlo scaricato prima, puoi appunto fruire del territorio e delle sue ricchezze attraverso una narrazione, uno storytelling diverso. Ci lascia liberi per poter poi girare il territorio e approfondire con i nostri tempi e andando ci permette di sceglierci il nostro percorso e il nostro modo di esplorare un territorio. Secondo l'indagine Ipsos Digital Audio Survey, nel 2022 gli ascoltatori di podcast sono aumentati di quasi 2 milioni rispetto al 2021, un nuovo modo di comunicare che attira soprattutto i giovani e che segue regole precise. Sapendo che molti di questi di generazione Z, appunto millennia, sono coloro che principalmente ascoltano, bisogna sempre cercare contenuti e il modo di raccontarli che siano attrattivi in questo senso. Pertanto parlare con il linguaggio delle persone a cui ti rivolgi. È inutile andare a raccontare in un modo vecchio, chiamano così fetusto, nel modo in cui tante destinazioni ancora raccontavano se stesse le cose, quindi i punti di interesse e le attrazioni, ma raccontando e coinvolgendo lo storytelling. Raccontando una storia di un personaggio attraverso l'attrattività, la peculiarità, aiuta ad avvicinare e aiuta ad essere, come dire, più di intrattenimento. Cerchiamo di fare quello che viene chiamato, in termini anche tecnico, edutainment, educazione e trattenimento insieme. Perché chi si avvicina un po' vuole ascoltare, vuole informarsi anche, però bisogna essere anche leggeri, parliamo di viaggi, parliamo di turismo, bisogna fare delle cose e avvicinarsi in maniera divertente. C'è un ritorno anche alla semplicità in generale, quindi l'audio ti consente proprio di togliere tutto quello che era complesso e di ritornare a qualcosa di più semplice. L'offerta dei Travel Podcast è molto ampia, ma chi emerge lo fa con una ricetta che mette l'utente al primo posto. Ci sono alcuni che sono nati proprio in maniera spontanea, se voi sentite anche su Spotify, i primi che hanno raccontato gli utenti, i residenti, le proprie destinazioni, che hanno iniziato a raccontare a se stessi o quello che piaceva fare era proprio nel luogo in cui vivono. Non sono dei canali brandizzati, non sono dei podcast, te li devi proprio andare a cercare, mentre il vantaggio di avere un Travel Podcast è un'applicazione dove hai il Travel incluso, ti consente di avere già l'obiettivo che vuoi. Se tu sei interessato a qualcosa che ha a che fare con un viaggio, è più facile che trovi in quella piattaforma le cose. Cerchiamo di rendere le cose semplici, dobbiamo essere trovati in maniera facile. Il tema dell'accessività dell'informazione e del contenuto è fondamentale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS